Do un paio di indicazioni di metodo, nel senso che, siccome ho visto molti di voi prendere appunti, io non ho preparato delle slide, ma ho inviato al corso una sintesi del percorso che cerchiamo di fare in questo momento. Anche se poi cercherò il più possibile di stare sugli aspetti più pratici e di principio, perché personalmente incontro tutti i giorni, lavorando all'interno della pubblica amministrazione, una certa difficoltà ad assimilare più che le norme, perché le norme si leggono e poi c'è anche l'ausilio della giurisprudenza, quelli che sono i principi, i tratti fondamentali della normativa, che poi sono anche il modo di lavorare all'interno della pubblica amministrazione, che sicuramente farò qualche collegamento che non c'entra negli appalti, ma è assolutamente pertinente, che tragano un po' dall'esperienza personale, perché teniamo presente che negli ultimi 25 anni o giù di lì, a partire dal 1990, il modo di fare pubblica amministrazione è totalmente cambiato e sta continuamente cambiando. Poi diremo perché. Lascerei, se mi consentite, le domande al termine, perché i formatori mi insegnano che per fare una dialettica in un momento formativo non bisogna essere, cioè la classe non deve essere superiore a 20, quindi se siete d'accordo, lascerei i momenti di approfondimento, più che domande, li chiamo di approfondimento, di chiarimento insieme, degli aspetti che presentano delle criticità. Primo principio, faccio un passettino indietro rispetto al tema, che il tema che mi è stato assegnato introduce un attimino l'aspetto dell'esecuzione, la fase dell'esecuzione, dei contratti pubblici per poi soffermarsi sul subappalto. Ovviamente il tempo è limitato, quindi sono due ambiti molto complessi, non ci potremo soffermare su tutto, ma come ho detto all'inizio cercherò di dare degli spunti più di carattere generale che di dettaglio della norma. Dall'interpretazione che si ricava, e non voglio ripetere, non ho nessuna intenzione di ripetere quello che ha detto prima l'Avvocato Barbera, però ha fatto i passaggi, che si ricava dagli articoli 31 e 33, da 31 a 33 del Codice, il legislatore non è così chiaro perché lo lascia sottinteso, però nell'ambito dei contratti pubblici siamo di fronte a un procedimento che lo chiama di affidamento del contratto, che però investe anche una fase che non è l'affidamento in senso stretto, cioè l'aggiudicazione, ma investe anche la fase dell'esecuzione. Cosa significa questo? Tant'è vero che l'articolo 31 del Codice dice che la pubblica amministrazione nomina un responsabile unico del procedimento, e questo procedimento è composto da diverse fasi, consentitemi di ripeterle, la fase della programmazione, la fase dell'affidamento, la fase dell'esecuzione. Poi ci può essere, come sappiamo, per i contratti pubblici di lavori, la fase della progettazione che si inserisce prima della fase di affidamento per la ricerca del contraente che deve eseguire l'opera. Con tutti i diversi livelli che conosciamo, studio di fattibilità, oggi si chiama così nel Codice, prima era il progetto preliminare, definitiva, progetto definitivo, progetto esecutivo. Però riflettiamo bene su un aspetto. Fase dell'esecuzione, che fa capo responsabile unico del procedimento, che è il dominus, è il capo per intenderci del procedimento, di tutto il procedimento, che inizia appunto con la programmazione triennale dalle opere pubbliche, sappiamo che poi c'è un aggiornamento annuale, o la preinformazione per quanto riguarda le forniture e i servizi, e che termina con che cosa questo procedimento? Non con un provvedimento amministrativo, ma termina con l'atto di collaudo per quanto riguarda le opere e i lavori pubblici, con il certificato di conformità per quanto riguarda le forniture e i servizi. Cosa vuol dire questo? Che c'è un'attribuzione responsabile a un funzionario pubblico che va al di là della giudicazione. Quindi c'è un concetto di procedimento diverso e più ampio rispetto a quello che abbiamo nella 241 del 1990, perché lì il responsabile del procedimento, articoli 4 e seguenti, ferma il suo compito con l'emissione del provvedimento finale, atto autoritativo, unilaterale, della pubblica amministrazione. Qui invece gli dice, caro responsabile del procedimento, quindi caro funzionario pubblico, guarda che tu devi attrezzarti anche per la fase negoziale dell'esecuzione del contratto. Non è poco. Perché non è poco? Allora, facciamo un passettino indietro sull'evoluzione legislativa. Coloro i quali si sono sempre occupati di opere e lavori pubblici, questa cosa già l'avevano, perché la legge 109 del 1994 già andava a disciplinare l'esecuzione del contratto di opere e di lavori. Quindi i tecnici, i responsabili, i direttori di lavori e delle opere, già questa cosa se la portavano dietro. Il decreto legislativo del 2006, il precedente codice, invece cos'è che fa? Siccome i precedenti decreti legislativi di forniture e servizi nulla dicevano sull'esecuzione, non dicevano chi doveva interloquire con il contraente privato, con l'operatore economico, nell'ambito dell'esecuzione delle forniture e dei servizi. Quindi gli uffici, ancora oggi succede, fanno fatica in questo, chi si occupa di forniture e di servizi, perché la sua formazione culturale, giuridica, di prassi amministrativa, si ferma alla giudicazione. Ovviamente adesso le cose stanno decisamente cambiando. Però cosa significa, do un flash, che la pubblica amministrazione e tutti coloro che vi operano dentro, prima di tutti i responsabili del procedimento, deve farsi, o comunque la pubblica amministrazione deve fare, una forte formazione sulla parte privatistica del procedimento. perché le norme che regolano l'esecuzione dei contratti pubblici sono quelle contenute nel codice, che, se andiamo bene a vedere, alcune hanno un approccio letterale come se fosse solo per i contratti pubblici di lavori ed opere. Però, automaticamente, tutto si estende ai servizi e alle forniture. Ma non solo, caro responsabile unico del procedimento, devi studiare il codice civile, perché sei chiamato, lo dice la norma, 101 giù di lì, che è il dominus dell'esecuzione, che è lui che si avvale degli altri operatori, che sono il direttore lavori, che sono il coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione, che sono poi, alla fine, il collaudatore o comunque colui che verifica la conformità della prestazione. Quindi, non basta che conosci le norme del codice, ma devi conoscere tutto quell'ambito, che è poi la parte fondamentale della struttura del codice civile, sulle obbligazioni e i contratti. Perché? Dove non si dice nel codice, è lì che si deve andare. Cosa se ne deriva da tutta la fase dell'esecuzione che viene disciplinata nel codice? Se deriva una cosa molto semplice, cioè chiama coloro le figure che intervengono, quindi anche il direttore dell'esecuzione per quanto riguarda le forniture di beni e servizi, li chiama una dialettica continua con l'operatore economico che sta eseguendo il servizio, o sta eseguendo l'opera. O comunque, nel caso anche di esecuzione continuata e periodica di forniture, anche con l'operatore economico che fornisce. Perché questo? Cosa passa lì? Sto facendo dei ragionamenti che sono banali, però fondamentali. è come se noi siamo a casa nostra, cosa facciamo quando ci ristrutturano l'appartamento, quando ci forniscono un bene, oppure se abbiamo un'impresa che ci fa le pulizie. Abbiamo una dialettica continua, cioè si entra nella logica di un rapporto paritetico, strettamente contrattuale in corso, e quindi io sono continuamente lì vigile a osservare che la prestazione si faccia bene. Quindi, questo per capire che siamo di fronte a un procedimento, e non è una novità di oggi, perché stava già nel codice del 2006, che modifica il concetto di procedimento amministrativo. Attenzione, faccio un altro collegamento, non specifico qua, ma importante, che è questo. Noi stiamo parlando di contratti pubblici, stiamo dicendo che il funzionario pubblico si deve attrezzare sotto il profilo civilistico, però, do solo un flash, non mi soffermo sulle riforme. C'è una tendenza del nostro legislatore, collocandola più o meno, consentitemi, nel Decreto Legislativo 29 del 1993, poi recepito nel 165 del 2001, che ha privatizzato il rapporto di pubblico impiego. Che tende, non stiamo a dire se è giusto o sbagliato, stiamo leggendo l'ordinamento giuridico, a travasare, nell'ambito dell'azione amministrativa del diritto pubblico, istituti, concetti, nozioni che sono propri del diritto privato. Succede anche per quanto riguarda la procedura del processo amministrativo, nel codice del processo amministrativo, questo. Però, qual è il fenomeno che si verifica? È lampante per quanto riguarda la giurisdizione del pubblico impiego, nell'ambito che è transitata dal giudice amministrativo, come competenza esclusiva, al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Che all'inizio, ad esempio, tutti correvano a acquisire questa competenza, anche grossi studi lavoristici privati, poi alla fine l'hanno lasciata, è rimasta quasi una nicchia. Perché? Perché per fare il contenzioso lavoro pubblico non basta che conosci le norme del codice civile o le leggi di diritto comune che regolano il rapporto privato nell'impresa subordinata. Lavoro subordinato nell'impresa privata, scusate. Ma devi conoscere tutto quello che è il fondamento dell'organizzazione e i principi fondamentali dell'azione amministrativa. Ad esempio, gli atti di macro-organizzazione, cioè che sono quelli in cui vengono organizzati un ente, rientrano poi invece nella competenza del giudice amministrativo. Ma torniamo a noi e concludo sul punto di impostazione. Quindi ci chiama tutti noi, dico tutti noi perché anch'io sono un funzionario della pubblica amministrazione, a acquisire una significativa competenza nell'ambito del diritto privato. Perché? Abbiamo detto il responsabile unico del procedimento, tutte le figure che lavorano, di cui lui si avvale, dice si avvale, quindi è lui il dominus, cioè il direttore lavori che ha il controllo tecnico amministrativo contabile, come il direttore di esecuzione. Deve verificare che l'opera sia eseguita a regola d'arte, secondo il contratto, secondo il progetto, così come anche quelli che sono i collaudatori o comunque i certificatori di conformità. Quindi, detto questo, spesso la parte dell'esecuzione va via velocemente. Ora, non ci possiamo soffermare perché richiederebbe un approfondimento molto particolare, perché ci sono molte norme che derogano poi anche al Codice Civile. Però alcune cose lasciatemele dire. Ad esempio, nelle fasi che vanno a determinare la conclusione del contratto, la stipula del contratto che viene fatta nelle forme, come aveva citato il collega, dell'articolo 32,14, sotto pena di nullità, nel momento in cui il contratto è stipulato, come dice il 32, non è ancora in alcuni casi produttivo di effetti giuridici. Perché? Perché questo. Perché entra in una sorta di momento in cui c'è la pendenza di una condizione. Ragioniamo un attimino, conosciamo qual è la pendenza della condizione, cioè un qualche cosa che l'effetto di un atto giuridico è subordinato al verificarsi di un evento futuro. Nel caso di specie vi sono alcuni ordinamenti giuridici, non gli enti locali, non le regioni, ma vi sono, ad esempio, nell'amministrazione dello Stato, sopra un certo livello dell'importo contrattuale, una volta stipulato il contratto per produrre effetti, deve essere approvato e in alcuni casi, oltre all'approvazione, è una riminiscenza nell'ordinamento, si sta andando verso la chiusura di questi concetti, però oltre all'approvazione occorre anche un vaglio perché ci sia la definitiva efficacia del contratto. Solo da quel momento in cui il contratto diventa efficace e quindi produttivo di effetti giuridici si ha l'avvio dell'esecuzione, salvo il caso in cui, come dice il commoto del 32, ci sia la necessità per ragioni, diciamo, obiettive imprevedibili di affidare invece prima della stipula del contratto, cioè casi in cui la norma poi fa alcune esemplificazioni, ma io direi che sono tutte quelle ragioni che l'obiettività di procedere e l'imprevedibilità nel senso che non è stato previsto prima di procedere a una consegna anticipata sia determinata da ragioni di interesse pubblico. altro punto fondamentale qualsiasi cosa che esce da una pubblica amministrazione deve essere motivata non stiamo andare a vedere la norma di settore se lo dice o meno perché c'è un principio generale contenuto nell'articolo 3 del 241 che dice che l'atto nelle premesse quindi la manifestazione di volontà della pubblica amministrazione deve dire il perché si è fatto così cioè i presupposti di fatto le ragioni giuridiche che risultano dall'istruttoria perché questo? perché per un principio di legalità e di trasparenza ma non solo i più cioè quelli che non sono direttamente destinati al provvedimento devono sapere perché la pubblica amministrazione è deciso così perché ha valutato il perseguimento di quell'obiettivo e il raggiungimento di quell'interesse pubblico consentitemi un flash sul tema della sospensione durante l'esecuzione del contratto allora fase critica in cui soprattutto vale per la realizzazione delle opere dei lavori pubblici per ragioni che sono impreviste imprevedibili prima della stipula del contratto l'esecuzione dell'opera entra in una fase di criticità questa fase di criticità è dovuta mettiamo che sia dovuta a eventi imprevedibili ad esempio le calamità naturali le difficoltà di eseguire certe prestazioni che non erano state previste cosa succede il direttore del lavoro e sospende l'esecuzione del contratto lo comunica al responsabile del procedimento dentro cinque giorni perché è il dominus della situazione cosa dice la norma questo è un punto che volevo portarvi dall'esperienza la norma dice che l'operatore economico deve contestare la sospensione sul verbale di sospensione e sul verbale di ripresa dei lavori salvo che la sospensione sia legittima e la contestazione deve essere fatta solo sul verbale di ripresa dei lavori perché altrimenti incontra in decadenza decade dal diritto all'azione di riserva cioè riserve nel senso azione di risarcimento del danno attenzione l'esperienza mi insegna anche attraverso arbitrati presenze in arbitrati che decade da che cosa decade dall'azione di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale ma non decade dal diritto a promuovere un'azione di arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione cioè non ti chiedo il risarcimento del danno con tutte le sue componenti danno emergente e lucro cessante ma ti chiedo se la sospensione è illegittima chiedo che sia riconosciuto al giudice o in sede arbitrale quando c'è la promozione dell'arbitrato che sia riconosciuto all'utilitas cioè il costo che ho subito ad esempio nel fermo cantiere per il fatto di una sospensione illegittima quindi perché spesso mi dicono i tecnici beh ma non ha messo sul verbale non ha contestato la sospensione quindi non può fare più niente no non è così non può chiedere ripeto l'azione di risarcimento di responsabilità contrattuale ma può provare un'azione di arricchimento che nell'ordinamento giuridico come tutti sappiamo comunque dovremmo sapere nell'ambito civilistico è un'azione residuale la puoi fare quando non c'è la possibilità e le condizioni di promuovere l'azione superiore diciamo di importanza nella struttura delle possibili azioni dell'ordinamento giuridico l'azione di responsabilità contrattuale quindi ho voluto dirlo questo perché spesso appunto mi si dice non hanno contestato quindi l'utilità è qualcosa di diverso perché significa documentare i costi derivanti all'imprenditore da un fermo cantiere o comunque da una sospensione cosiddetta illegittima ora passiamo a un argomento che è si stacca un attimino dal ragionamento complessivo dell'esecuzione perché altrimenti non c'è il tempo ed è un argomento importante che è il subappalto allora il subappalto che lo troviamo disciplinato nell'articolo 105 del codice rispetto alla disciplina previgente che era contenuta nel 118 del 163 contiene due novità importanti la prima che il subappalto è consentito solo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto a differenza di quello che accadeva prima che invece il 30% era rapportato solamente alle categorie specialistiche mentre le prevalenti potevano tranquillamente non avevano nessun limite al subappalto la seconda modifica importante è quella dell'alterna dei subappaltatori lasciamole un attimo a parte perché voglio dire anche qui alcune cose di carattere generale sul subappalto allora come tutti noi sappiamo il subappalto nell'ambito delle opere dei contratti pubblici ha una definizione un attimino diversa rispetto al subappalto turcur privatistico perché il subappalto turcur privatistico se noi ristrutturiamo la nostra abitazione il contratto d'appalto fatto con l'appaltatore lascia libero questi di affidare anche totalmente tutta la prestazione a più subappaltatori nel pubblico invece non è così perché abbiamo visto che c'è un limite del 30% e la norma se andiamo a leggerla ci fa capire subito di che cosa parliamo perché la norma in uno dei primi come adesso non importa quale dice che in linea di principio l'appaltatore esegue la prestazione in proprio salvo l'applicazione dei come successivi c'è un'inversione di impostazione rispetto al diritto comunitario non solo le direttive del 2014 ma anche quelle del 2004 perché lì non c'è nessun limite al subappalto non dice che l'imprenditore esegue in proprio anzi dice che l'imprenditore può andare a prendere le prestazioni qualifiche da terzi quando non le ha quindi vedete che c'è lo dico perché è importante capire subito questo è scontato ma partiamo da qua perché è un principio che sta nella norma quando andiamo a leggere tutti gli altri commi dobbiamo sempre tenere presente questo principio fondamentale perché la norma è costruita in questo modo non lo puoi fare salvo quel limite in questi modi se non entriamo in questo recinto non siamo nel subappalto pubblico quindi facciamo un altro aggiornamento che accennava anche la collega stamattina la finalità la finalità allora sia il subappalto che l'avvallimento sono due istituti tra l'altro consentitemi di dire che di avvallimento prima che arrivasse nel diritto comunitario si parlava nelle sentenze della Corte di Giustizia europea mi ricordo i contenziosi fatti al Tar Milano tra il 97 e il 99 in cui si discuteva quando c'erano soggetti che andavano a prendere requisiti da altri non c'era nessuna norma neanche nel diritto comunitario sulla valenza della sentenza della Corte di Giustizia europea quindi l'avvallimento è qualcosa che sta ancora prima del diritto comunitario ma nella giurisprudenza della Corte che come sappiamo la giurisprudenza della Corte europea non è la nostra giurisprudenza sto facendo una parentesi è diritto vivente alla stessa valenza di una norma anzi rispetto al diritto interno scalza il diritto interno che contrasta con i principi contenuti nelle sentenze della Corte di Giustizia europea comunque tornando a noi avvallimento e subappalto hanno come sappiamo l'articolo 89 e il 105 sono strutturati in modo diverso non sono la stessa cosa però la finalità è la stessa la finalità qual è? la percepiamo facilmente di ampliare il più possibile in modo fin dove si può si può il mercato degli appalti pubblici perché questo? non perché è bello essere deciso così nelle direttive piuttosto che nel nostro codice perché se noi andiamo alle origini e qui un altro principio il trattato costitutivo dell'allora comunità economica europea firmato a Roma nel 56 in cui c'erano sei stati aderenti tra cui l'Italia il principio fondante forse sicuramente il più importante mercato comune europeo significa che quei sei paesi lì consentitemi il passaggio semplice hanno deciso una cosa che è la seguente giusto o sbagliato che sia sposare il principio del libero mercato cioè e realizzarlo come attraverso un principio economico che un po' tutti conosciamo che la polverizzazione di imprese sul mercato che offrono un determinato bene o servizio cioè più imprese ci sono che fanno autostrade che forniscono cancelleria che puliscono che fanno le pulizioni negli ambienti pubblici maggiore è la qualità del bene offerto e minore il prezzo è un principio banalissimo di economia quindi quel fondamento lì è per quello che poi a un certo punto il legislatore comunitario ha deciso di intervenire nell'ambito degli appalti pubblici perché la pubblica amministrazione che non è poco nell'ambito comunitario deve andare a prendere sul mercato le cose che gli servono perché il principio è quello di fare la gara più ampia possibile aperta ristretta eccezionalmente solo si può andare con la negoziata quindi vediamo che questi due istituti si collocano lì perché anche se le dichiarazioni che si fanno in sede di offerta sono diverse perché con l'avvallimento si dichiara che ci si avvale di un terzo previa stipolo di un contratto che è l'impresa ausiliaria per quanto riguarda quelli che sono i requisiti che ci mancano per partecipare alla gara quindi già in quel momento lì con la dichiarazione se ci sono tutti i crismi opera l'avvallimento nel subappalto invece si dichiara che se avrò la giudicazione utilizzerò un altro soggetto ma qui c'è un contratto nel subappalto che sta a valle non a monte del contratto di appalto cioè che è subordinato al contratto di appalto il contratto di subappalto e che passa attraverso un'intermediazione con la pubblica amministrazione che interviene nella fase già di esecuzione in corso di esecuzione della prestazione perché devo chiedere l'autorizzazione al subappalto che poi sinteticamente andremo a dire la norma poi esclude che ci possono essere dei subappalti a catena cioè ce ne può essere solo uno non è che il subappaltatore poi a suo volto subappalta e vi discorrendo l'articolo 2 il coma 2 dell'articolo 105 poi definisce subappalti per farli rientrare nel subappalto pubblico degli strumenti negoziali che in sostanza sono dei subcontratti o comunque quelli che li chiama la dottrina e la giurisprudenza dei contratti assimilati al subappalto cioè si preoccupa di far rientrare nel subappalto nella disciplina del subappalto quando in sostanza l'impiego di manodopera o comunque di funzioni lavorative supera il 2% dell'importo dell'appalto o comunque supera il 100.000 euro quando però il costo della manodopera o comunque delle prestazioni lavorative impiegate supera il 50% quindi vuol chiarire che questi aspetti rientrano lì perché noi il nostro legislatore è continuamente preoccupato e qui stanno le ragioni perché la nostra disciplina del subappalto è più restrittiva rispetto che deriva dal diritto comunitario o comunque dall'applicazione dei direttivi in altri paesi della preoccupazione delle infiltrazioni delle associazioni mafiose comunque delinquenziali che in sostanza entrando nel mercato non assicurano un mercato libero non assicurano quel principio che sta alla base della libera concorrenza eccetera eccetera quindi sono un po' queste le ragioni per cui c'è questa norma con tutte le restrizioni poi il comma 3 esclude alcune prestazioni per la loro specificità qui non sto a ripeterle perché è sufficiente riempire la norma un aspetto riguarda quelle che sono le prestazioni dei soggetti di natura professionale ad esempio non è subappalto il momento in cui l'appaltatore in corso d'opera in corso di esecuzione ritiene di affidare un incarico di consulenza a un legale come spesso accade quando magari l'appalto presenta una certa complessità con delle sospensioni bisogno di dedurre verbale e via discorrendo quindi in questi casi siamo fuori perché questi casi sono e c'è una sostanza utilizzo di termini diverso che sostanzialmente non distingue ma viene utilizzato un altro termine per tenere fuori questo tipo di contratti dalla normativa di subappalto che sono appunto i subcontratti che non obbligano chiedere un'autorizzazione ma bisogna informare sugli elementi essenziali di questi subcontratti la stazione appaltante perché la stazione appaltante deve sapere ad esempio se arriva in cantiere o comunque se l'imprenditore si presenta con determinati soggetti i soggetti che vanno e vengono da un cantiere o comunque soprattutto dalla prestazione di un servizio e via discorrendo le condizioni sono quelle che troviamo nella norma anche se una è stata cambiata attraverso il decreto correttivo cioè che il subappalto può essere dato a un soggetto che non abbia partecipato alla gara perché altrimenti ci sarebbe una distortura cioè un soggetto che partecipa che ha il subappalto altro elemento altra condizione è che il subappaltatore deve possedere la qualificazione quindi nel caso di categorie deve avere la qualificazione in SOA che deve essere dichiarato spessamente nell'offerta l'ambito del subappalto cioè quali prestazioni darò in subappalto o comunque la porzione di singole prestazioni che darò in subappalto perché la pubblica amministrazione già deve sapere prima come stanno le cose in sede di offerta e in ultimo deve presentare deve provare che il subappaltatore non rientra nelle cause di esclusione di quell'articolo 80 bisogna chiederlo però bisogna chiedere l'autorizzazione subappalto l'amministrazione deve pronunciarsi entro 30 giorni cosa succede se non si pronuncia si forma un silenzio a senso dove si impugna il digniego all'autorizzazione subappalto allora qui bisogna fare un attimino un ragionamento che consentitemi se faccio un passaggio processuale ma è d'obbligo la prevalente giurisprudenza quella che si è trovata in cui chiarisce spessamente questo punto cioè la giurisdizione impugnale dell'autorizzazione subappalto che intorno la trovate comunque nelle note è in sostanza rotta intorno tutta agli anni 2010-2011 concludono nel senso che l'autorizzazione negata del subappalto è un provvedimento amministrativo che si impugna davanti al giudice amministrativo perché dice questa giurisprudenza è l'espressione di un potere pubblicistico anche se siamo in una fase di negoziazione con l'appaltatore nel senso l'esecuzione del contratto quindi in una dialettica paritetica ci sono tutti gli elementi per rientrare nell'ambito della fase pubblicistica c'è una giurisprudenza minoritaria che fa capo al Tarroma che troverete nelle note che invece è di diverso avviso però è minoritaria negli anni successivi non ho trovato giurisprudenza che espressamente si pronuncia sul punto però c'è molta giurisprudenza che interviene su questioni che attengono l'autorizzazione davanti al giudice amministrativo e il giudice amministrativo la trattiene cioè non denega la propria giurisprudenza non rimette la propria giurisdizione a quello che è il giudice ordinario quindi in prevalenza la competenza avanti al giudice amministrativo un'altra sentenza che troverete comunque indicata molto interessante è questa ma chi può impugnare il diniego l'appaltatore il subappaltatore tutti e due questa giurisprudenza conclude nel senso che ci dice che il diniego non può essere impugnato dal subappaltatore perché perché occorre un interesse concreto e attuale ex articolo 100 del codice di procedura civile cioè per promuovere un'azione occorre avere l'interesse a ottenere un certo pronunciamento interesse giuridico perché il subappaltatore non ha un interesse giuridicamente tutelato ma un interesse cosiddetto di mero fatto cosa significa questo che non potrà per primo promuovere il ricorso ma potrà una volta che il ricorso avanti un diniego di autorizzazione l'ha proposto l'appaltatore aggregarsi attraverso un intervento cosiddetto ad adiuvando cioè adesivo perché per intervenire in un giudizio in un intervento adesivo è sufficiente avere un interesse di mero fatto perché il subappaltatore è un interesse di fatto a che la pubblica amministrazione autorizzi il subappalto perché è evidente che gli derivano in sostanza i benefici quindi giudizio nel giudice amministrativo con un però non siamo nella giudizione esclusiva di cui l'articolo 133 del codice del processo amministrativo che stabilisce che per tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture sia una cosiddetta competenza esclusiva del giudice amministrativo cioè una competenza per materia senza distinguere se la lesione della posizione giuridica soggettiva sia di interesse legittimo o di diritto soggettivo ma in questo caso siamo di fronte a un provvedimento il diniego di autorizzazione che è capace di ledere solo interessi legittimi quindi una giurisdizione generale di legittimità non esclusiva che è quella in sostanza che trova fondamento nel 103 e nel 113 della Costituzione che parla di interessi legittimi non ricordo più il segno dove sono arrivato adesso lo riprendo mentre invece per quanto riguarda la dialettica contrattuale fra appaltatore e subappaltatore la giurisdizione è evidente siccome siamo tucur nell'ambito di un contratto se ci sono delle criticità delle questioni si va davanti al giudice ordinario obblighi dell'appaltatore allora in primis la norma ci dice una cosa molto semplice che l'appaltatore risponde in via esclusiva alla pubblica amministrazione di che cosa? perché la norma si ferma lì della prestazione della prestazione che si è impegnato ad assumere con la stipula del contratto di subappalto cioè anche quando c'è il subappalto e il subappaltatore non esegue bene le prestazioni è inadempiente nei confronti dell'appaltatore l'appaltatore non si può rifugiare a dire ma è stato il subappaltatore eseguire mare o non eseguire perché alla pubblica amministrazione alla stazione appaltante non gli interessa ciò ma non perché si è deciso così perché è logico dal punto di vista della categoria del diritto perché il contratto la pubblica amministrazione ce l'ha con l'appaltatore è vero che autorizza il subappalto ma non entra nella dialettica contrattuale con il subappaltatore quindi se l'appaltatore fa male se il subappaltatore fa male scusate risponderà all'appaltatore ma sarà chiamato l'appaltatore nella causa l'azione di risarcimento danni alla pubblica amministrazione per inadempimento del subappaltatore o per cattivo adempimento della prestazione di parte di quest'ultimo certo è che se poi l'appaltatore sarà condannato a risarciare un danno alla pubblica amministrazione per un cattivo operato del subappaltatore avrà un diritto di rivalso nei confronti di quest'ultimo però è chiara la norma la norma dice il legislatore lascio fare il subappalto la pubblica amministrazione l'autorizza ma tu rispondi del cattivo adempimento del subappaltatore o della mancata prestazione da parte del subappaltatore per la parte in cui hai stipulato il contratto di subappalto vi è poi tutta un'elencazione di obblighi in capo all'appaltatore che ci dicono sostanzialmente questo non vado a riprenderli perché poi li trovate sulla norma e anche diciamo costruiti in un modo più logico rispetto allo scorso della norma nella sintesi che troverete sul sito ma cosa ne deriva da tutti questi obblighi che sempre l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore ci dice questa l'elencazione cioè che in tutti i casi sia nei confronti dei lavoratori dipendenti retribuzioni certificazioni sia nel caso in cui è mancato versamento di contributi previdenziali assistenziali eccetera osservanza dei contratti collettivi nazionali territoriali e quant'altro risponde sempre in solido anche per quanto riguarda gli adempimenti del decreto legislativo 81 in materia di sicurezza risponde in solido ha l'obbligo di coordinare i piani di sicurezza tra i diversi appaltatori ha l'obbligo di depositare il contratto di subappalto perché il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima deve essere depositato presso la pubblica amministrazione dice in sostanza definisce in sostanza l'ambito di questo contratto di subappalto sia per quanto riguarda le prestazioni sia per quanto riguarda l'importo la norma poi per favorire le piccole micro imprese che è un po' un tratto fondamentale di tutte le direttive ultime cioè si vuole fare in modo proprio per quel principio che dicevamo prima della cosiddetta polverizzazione dei mercati di far entrare le piccole imprese nella materia del mercato dei contratti pubblici assicura la possibilità di pagare direttamente a queste quando appunto vi sono le piccole e medie imprese come assicura la possibilità di pagare direttamente al subappaltatore quando l'appaltatore non corrisponde alla prestazione e questi sono casi che come molti di voi sapranno sono molto complicati perché rischiano immaginate la piccola impresa la media impresa che non riceve in tempo la commessa del subappalto rischia in alcuni casi come sappiamo anche il dissesto economico e l'altra ipotesi è quando a seconda del tipo di prestazione il subappaltatore lo chiede l'amministrazione consente il pagamento diretto al subappaltatore l'ultimo aspetto su questo punto che volevo dire che è un po' una novità recente che non riguarda tanto direttamente il subappaltatore però l'appaltatore ma si inserisce nel contesto che in sostanza come voi sapete l'articolo 29 comma 2 del decreto legislativo 276 del 2003 prevede una responsabilità solidale del committente nei confronti di appaltatori e di subappaltatori per quanto riguarda una responsabilità che ha una durata biennale da quando si conclude la prestazione per quanto riguarda il pagamento a coloro ai lavoratori che hanno prestato la prestazione sia in appalto che in subappalto una responsabilità per quanto riguarda la retribuzione il trattamento di fine apporto i contributi previdenziali assistenziali eccetera qui c'è stato un interessante intervento della corte costituzionale su questo aspetto in sostanza stiamo parlando della sentenza 6 dicembre 2017 numero 254 che perché è stata chiamata la corte perché si dice che questa norma che parla solo di subappalto non comprende l'ipotesi dei subcontratti o delle subforniture la corte cosa fa rigetta la questione di legittività costituzionale per violazione di articoli 336 ma nello stesso tempo dà un'interpretazione costituzionalmente orientata alla norma cioè dice è vero che la norma parla di subappalto però si deve ritenere che siano compresi nella lettura costituzionalmente orientata anche subcontratti e subforniture qui c'è recentemente la circolare numero 6 del 29 marzo 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che recepisce questa interpretazione da parte della corte costituzionale ovviamente in questo caso se siamo tutti tenuti non tanto per questa circolare a osservare questo allargamento della norma quindi si amplia quella che è la responsabilità del comitente quindi della stazione appaltante anche per quanto riguarda i subcontratti e le subforniture la questione quantitativa del 30% allora abbiamo visto che il 30% nel nuovo codice limite quantitativo subappalto è previsto in rapporto all'importo complessivo del contratto quindi non più limitato come dicevamo prima a quelle che sono le categorie specialistiche la questione la questione qui importante che dobbiamo fare un attimino una riflessione è se la nostra norma che prevede il limite del 30% sia compatibile col diritto comunitario e qui ci sono già delle manifestazioni ufficiali in questo senso già precedentemente nella vigenza delle precedenti direttive la Corte di Giustizia nel 2000 poi trovate comunque riferimenti esatti nel 2014 e anche nel 2011 si era pronunciata rispetto alla direttiva 2004 numero 18 in materia di lavori pubblici rispetto a una clausola contenuta in un capitolato doneri che limitava fortemente il ricorso al subappalto questa giurisprudenza dice in sostanza che già allora il nostro ordinamento manifestava un contrasto rispetto al diritto comunitario però non si può applicare direttamente perché si è pronunciata non su un atto legislativo su una norma legislativa ma si è pronunciata la compatibilità rispetto a un provvedimento amministrativo qual è il capitolato doneri qual è la clausola contenuta nel capitolato doneri però già sanzionava in questo modo perché dice questa giurisprudenza che come abbiamo visto all'inizio il nostro legislatore quindi già nell'articolo 118 l'impostazione della norma limitava fortemente il subappalto già in quella norma che diceva come lo dice oggi abbiamo visto all'inizio che dice che in primis l'imprenditore che vince la gara che ha giudicato che ha stipulato il contratto deve eseguire la prestazione in proprio quindi già per questo dice c'è una limitazione al concetto di subappalto che non corrisponde a quello che leggiamo nelle direttive perché la direttiva 18 in particolare l'articolo 48 coma non me lo ricordo lo troverete scritto dice in sostanza che la finalità è quella di assicurare a colui che partecipa alle gare di avvalersi anche di soggetti terzi quando non ha i requisiti facendo così dice si limita nella vigenza invece del nuovo codice c'è stato un'attività molto serrata da parte dell'associazione nazionale costruzione edili cioè già nelle prime battute che mi era partecipato mi era capitato di partecipare a tavole rotonde questa associazione era molto accanita e lo è ancora oggi rispetto a questo limite perché porre il limite del 30% rispetto a un importo complessivo invece che il limite del 30% sulle categorie specialistiche adesso non abbiamo il tempo di prospettare i casi ma stringe di più è ancora più restrittiva rispetto al precedente perché immaginate le opere in cui abbiamo delle categorie specialistiche che limitano il subappalto possiamo avere tante categorie non specialistiche quelle scorporabili che invece ci consentivano prima di fare il subappalto senza alcun limite quindi cosa fa l'associazione nazionale costruzione edili invia una nota ufficiale alla commissione europea la quale risponde con la propria direzione generale del mercato interno che in sostanza dice hai ragione la normativa contenuta nel decreto legislativo 50 e nel correttivo quindi la risposta è arrivata dopo non è conforme presenta una incompatibilità rispetto al diritto comunitario però ovviamente la commissione sta facendo una interlocuzione in sede amministrativa non è la corte di giustizia la corte di giustizia invece ci pensa il tar lombardia con una sentenza recente del 5 gennaio di quest'anno numero 28 che chiamata a pronunciarsi su un contenzioso che riguardava la realizzazione lo dico perché è interessante anche dal punto di vista territoriale la realizzazione lo cerco di un lotto dell'autostrada A8 della barriera di Milano di Milano Nord all'interlocuzione di Lainate quindi un segmento di circa 2 km fa una una gara una procedura ristretta questa società partecipa alla ristretta la gara prevede ovviamente una categoria prevalente molto significativa circa di 45 milioni la OG3 che è quella in sostanza della realizzazione di reti autostradali e tutta una serie di categorie scorporabili partecipa alla ristretta ottiene la prequalificazione viene quindi chiamata con lettera di invito a partecipare alla gara partecipa alla gara tra l'altro nella ristretta dice ho praticamente la prevalente ma non ho tutte le altre categorie scorporabili e quindi nella lettera di invito la stazione appaltante dice prendo atto che è la prevalente se vuoi partecipare se vuoi essere ammesso devi andare a prendere le scorporabili attraverso gli strumenti quali il subappalto la società partecipa presenta il manifesto in sostanza in sede di offerta la possibilità di avvalersi del subappalto in corso di esecuzione e la stazione appaltante la esclude la esclude perché dice che ha superato attraverso la somma delle prevalenti il 30% previsto nella norma ricorso al TAR in cui si deducono tutta una serie di cose di violazioni del codice ma anche della 241 perché aveva chiesto l'autotutela l'amministrazione non l'ha data quindi anche il 21 onis e quant'altro ma la faccio breve in cui chiede oltre a queste violazioni quindi violazioni di legge o erata applicazione di norme di legge chiede in via subordinata attenzione la disapplicazione di questa norma del 105 che prevede il 30% per la prevalenza del diritto comunitario noi sappiamo che allora faccio una parentesi consentitemi una parentesi viviamo in un contesto ordinamentale giuridico in cui il nostro ordinamento non è sovrano perché c'è una certa sovranità la nostra sovranità dal punto di vista giuridico e legislativo è compressa dall'altro dal diritto comunitario attraverso le direttive che devono essere recepite attraverso i regolamenti che hanno immediata efficacia applicativa all'interno del diritto interno perché il 117 comma 1 della Costituzione in forma del titolo quinto tra le altre cose ci dice che il legislatore nazionale o regionale nel legiferare deve osservare i principi contenuti nell'ordinamento comunitario quindi se noi andiamo a contrastare il nostro legislatore con una norma che sta nel diritto comunitario il giudice amministrativo non solo ma quello amministrativo più sensibile al diritto comunitario rispetto a quello civile anche perché gli ambiti di materia sostanno più nel diritto amministrativo può operare questo diciamo attraverso questa tecnica processuale disapplicare quindi non applicare per il caso concreto quella norma di diritto interno nel caso di spese il famoso 30% che contrasta con la diretria comunitaria che non contiene nessun limite non contiene nessun limite nel 30% sia le direttive del 2004 sia le direttive del 2014 questo invia subordinata e poi gli dice in questa subordinata se non te la senti di fare ciò rinvia la questione di compatibilità alla corte di giustizia europea il Tar Milano prima sezione non se la sente di disapplicare questa norma perché ci sta indietro tutta una serie di ragioni che sono di tutela di trasparenza la lotta alla criminalità la corruzione tutto quello che sappiamo rimette la questione al diritto al giudice comunitario cioè fa una sentenza non definitiva in cui rigetta tutto il resto e rimette la questione al diritto comunitario tra l'altro in questa sentenza e faccio un passaggio di lato esplicita anche due altri principi che vi riporto il primo che è abbastanza riconosciuto in giurisprudenza poi vedrete il caso se lo volete leggere non possiamo tornarci nello specifico dice che rientra sempre nel potere della stazione appaltante in sede di procedimento la possibilità di verificare il possesso dei requisiti richiesti tutti i requisiti quindi sia quelli di moralità sia quelli tecnico professionali sia quelli economico finanziari fino a che non si arrivi alla stipula del contratto fino a che non si stipuli tant'è come diceva il collega stamattina anche dopo la giudicazione se l'amministrazione giudicazione non efficace se l'amministrazione rileva che non ha visto che il soggetto non aveva i requisiti particolari requisiti di partecipazione può annullare la giudicazione questo che dice anche il TAC primo principio secondo principio importante dice anche questo che mantenendo fermo il limite del 30% lasciamo perdere la remissione della Corte di Giustizia e l'incompatibilità con il diritto comunitario come si calcola questo 30% cioè si calcola sull'importo a base d'asta o sull'importo dell'aggiudicazione perché comprendiamo che cambia perché significa che se la base d'asta è 100 se il soggetto vuole utilizzare tutto il suo 30% deve proporre in sede offerta subappalti per 30 se invece lui nella sua offerta poniamo per fare i conti precisi dice faccio un'offerta di 200 può arrivare un subappalto fino a 60 di importo il tar Milano dice no non è così perché ragioni di parità di trattamento di certezza del diritto è tutto quello che ci scrive il 30% va rapportato all'importo a base d'asta e non invece come riteneva ricorrente che l'importo deve essere rapportato invece alla sua offerta altro aspetto e poi chiudo siamo quasi alla fine la terna dei subappaltatori è l'altra novità introdotta dalla norma il fatto che vi è l'obbligo in capo all'offerente il concorrente di indicare nell'offerta quando ritiene di avvalersi al subappalto facendo tutto quello che abbiamo detto prima cioè indicando le parti della prestazione che intende subappaltare indicare la terra dei subappaltatori per assicurare un principio di trasparenza richiamato nel considerato 107 della direttiva 2014 numero 24 come richiamava la collega prima perché perché si succede tra la facendo che si verifica che il soggetto subappaltato non ha i requisiti devo avere la possibilità di sostituirlo allora qual è l'ambito oggettivo di questo obbligo innanzitutto per tutti i contratti che sono sopra soglia in secondo luogo a prescindere dalla base d'asta per quei contratti che presentano quelle attività più che dei contratti per quei contratti per quelle attività che presentano per loro natura dei rischi di infiltrazione mafiosa e richiama qui l'elenco che voi trovate comunque nella nota del coma 53 dell'articolo 1 della legge 2.12 numero 190 in tutti questi casi vi è l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori ultima questione e poi abbiamo veramente finito cosa succede se il soggetto offerente concorrente ritiene di avvalersi il subappalto fa tutto quello che deve fare e non indica la terna dei subappaltatori o comunque la indica in modo incompleto la domanda che si è fatta alla giurisprudenza è se questa mancanza possa essere o meno sanata nel corso del procedimento di affidamento la prima sentenza che ha affrontato questa questione è un tar lombardia sezione di Brescia stiamo parlando del 29 dicembre 2016 che in sostanza fa questo ragionamento la mancata indicazione della terna non comporta l'esclusione ma casomai l'impossibilità di avvalersi il subappalto parte da questa premessa per giungere a ritenere che questa mancanza non è una mancanza assoluta e insanabile ma si può ricorrere ai sensi dell'articolo 83,9 con il soccorso istruttorio perché è una mancanza formale che può essere emendata cioè sanata nel corso del procedimento attraverso il soccorso istruttorio qui la giurisprudenza poi segue il tar Brescia ad esempio l'ultima che ho trovato è un tar Piemonte 17 gennaio 2018 numero 94 che conferma l'impostazione della giurisprudenza la stessa ANAC segue la giurisprudenza con delibera 487 il 3 maggio 2017 resa in sede di preconteziosa l'articolo 211 del codice conferma che la mancanza di indicazione della terna può essere sanata in sede di soccorso istruttorio da parte del concorrente offerente del resto concludo dicendo se siamo partiti dall'inizio ritenendo che le finalità dell'avvallimento e del subappalto nell'ambito del diritto comunitario sono le stesse non si vede perché ci sia questa compressione nel subappalto e non nell'avvallimento non si vede perché sia ammesso in modo pacifico che addirittura si possono correggere le mancanze nel contratto con l'impresa usiliale e l'avvallimento e non si possa invece rettificare la mancanza della terra dei subappaltatori io mi fermo qua se poi avete delle domande sia in pubblico che riservate più che domande dei confronti non le chiamerei domande confronti cioè aspetti da esaminare insieme sono ben lieto di farlo grazie grazie grazie